Una lunga lettera per augurare un buon Natale alla città è quella che ha scritto il bescovo Gianrico Ruzza che in un periodo difficile chiede di tenere alto il morale. La Guardia Costiera ha sequestrato oltre 6 tonnellate di prodotto ittico ed elevato sanzioni per un totale di circa 42.000 euro. Questo l'esito della maxi operazione Atlantide. C'è chi lo festeggerà come sempre e chi è più preoccupato a causa del Covid. Ma i Civitavecchisi troveranno comunque il modo di celebrare il Natale, il secondo in pandemia. Tutto pronto in Cattedrale per la Notte delle Pastorelle in programma domani sera alle 20.30 con il ritorno del pubblico. Diretta sul canale 111 e sulla pagina Facebook di TRC. Rinviato al 30 dicembre il big match del Civitavecchia che domani avrebbe dovuto sfidare la capolista Pomezia. Alcuni casi di Covid negli avversari hanno costretto al rinvio. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Una lettera inviata alla diocesi di Civitavecchia, Tarquinia e Porto Santa Rufina per augurare a tutti un sereno Natale. È quanto è stato fatto da Monsignor Gianrico Ruzza che in questi giorni di preparazione alla memoria dell'incarnazione del Signore Gesù manifesta la sua vicinanza a tutti e condivide alcune riflessioni il servizio. Auguro a ciascuno di voi che il sorriso del bambino di Betlemme sia una vera luce nel cammino che percorriamo in questo tempo contraddittorio ed esaltante al tempo stesso. Il Vescovo Gianrico Ruzza scrive alle diocesi di Civitavecchia, Tarquinia e Porto Santa Rufina una lettera in questi giorni di preparazione alla memoria dell'incarnazione del Signore Gesù per manifestare la mia vicinanza a ciascuno di voi. La tradizionale lettera di Natale inizia con Monsignor Ruzza che esprime vicinanza a tutti in questi giorni di preparazione alla memoria dell'incarnazione del Signore Gesù. Soprattutto in questo momento della storia, continua il Vescovo, così complesso e faticoso, non solamente per la pandemia, c'è qualcosa di grande e di bello che ci spinge a gridare e a proclamare la gioia, la speranza e la serenità. Viene il Signore, anzi è già venuto e condivide il cammino dell'esistenza con noi, è il Dio della prossimità. E' proprio questa la bella notizia annunciata dal messaggero. Non ci interessa il messaggero, ma la notizia che porta con sé. La notizia è la pace del cuore che nasce dal desiderio del Signore di venire a noi come consolatore. Monsignor Ruzza nella lettera spiega che spesso ci scopriamo scoraggiati, talora siamo preoccupati, sentiamo il peso delle giornate, viviamo gravi indecisioni e incertezze circa il futuro. Come se tutto questo non bastasse, la noia e la paura degli eventi affliggono in particolare le giovani generazioni, facendo scaturire in esse un diffuso pessimismo. Sappiamo però che il Signore ha deciso di vivere tra noi, di condividere tutte le nostre fatiche. Questo ci consola, questo ci dona forza, questo ci spinge ad avere speranza. Gridiamolo a tutti, non lasciamo spazio allo sconforto né a qualsivoglia pensiero negativo. Da qui sorge l'invito del Vescovo a prorompere incanti di gioia. Auguro a ciascuno di voi, conclude il Presule, che il sorriso del bambino di Betlemme sia una vera luce nel cammino che percorriamo in questo tempo contraddittorio ed esaltante al tempo stesso. Esprimo il desiderio che tutti possano leggerlo come la straordinaria opportunità di vita, di speranza, di gioia che ci viene offerta. Mi auguro anche che tale opportunità sia condivisa con tanti sorelle e fratelli desiderosi di autenticità e di pace. Vi benedico con affetto. L'ingresso nella rete core del porto di Civitavecchia, la gestione del conferimento degli incarichi e dei rimborsi per le assistenze legali e un progetto per turbine in grado di produrre energia elettrica dal moto ondoso. Sono alcuni dei temi trattati nel corso della seduta del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale che si è svolta ieri. In apertura il Presidente Musolino ha dato notizie ai membri del Comitato di Gestione dell'entrata del porto di Civitavecchia nella rete core, sottolineando che è un risultato storico che si è ottenuto grazie al risultato del lavoro di squadra, dell'ente e di tutti i rappresentanti del Lazio ad ogni livello istituzionale. Tutte le delibere sono state approvate all'unanimità, dalla richiesta della seconda tranche del contratto di prestito BEI alla ratifica di alcune variazioni di bilancio. Gli altri punti dell'ordine del giorno erano relativi alla modifica del regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'autority. E' stato inoltre confermato il numero massimo di autorizzazioni ex articolo 16 della legge 84-94 che anche per il 2022 sarà di 18 autorizzazioni. Per quanto riguarda il piano organico del porto 2022-2024 si è preso atto che da oggi sono 805 dipendenti delle imprese articolo 16, mentre sono 203 quelli dell'articolo 17, cioè della compagnia portuale per un organico complessivo di 1.008 unità iscritti nel registro ex articolo 24. Infine tra le concessioni demaniali rilasciate c'è quella dell'Artemio Energia SRL in darsena servizi per l'installazione di due turbine sperimentali su fuori di sfiato del muro paraonde allo scopo di produrre energia elettrica del moto ondoso. Portare il tavolo del mare e trattare delle questioni che riguardano il nostro territorio, se lo augura il forum PD Porto Servizi e Logistica in merito alla recente istituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di uno strumento in grado di aprire un confronto permanente con le associazioni di categorie sindacali indispensabile per approfondire temi generali specifici che riguardano i porti, la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale. Riteniamo importante questa iniziativa del governo affermano dal forum del PD soprattutto se calato nel nostro territorio. Il nostro porto dovrà avere la giusta considerazione su vari temi che si stanno affrontando, da quello delle infrastrutture sostenibili a quello della logistica e merci, della formazione, alla qualità del lavoro e sicurezza, delle semplificazioni e competitività fino a tutti i processi di digitalizzazione. Secondo i DEM il tavolo permanente sarà un luogo importante dove avanzare proposte concrete e trovare soluzioni condivise generando un salto di qualità al settore in considerazione dei forti investimenti sui porti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza che avranno un impatto importante nel processo di transizione ecologica. E prosegue l'attività della Guardia Costiera di Civitavecchia in materia di controllo della filiera della pesca e tracciabilità dei prodotti a tutela della risorsa ittica e dei consumatori. Il bilancio dell'attività ispettiva porta all'elevazione di sanzioni amministrative per circa 42 mila euro con il sequestro di oltre 6 tonnellate di prodotto ittico, in particolare in provincia di Viterbo presso un centro di trasformazione e commercio all'ingrosso di prodotti ittici nel comune di Monte Fiascone. Il personale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha proceduto al sequestro di oltre 15 mila confezioni di prodotti ittici vari per un totale di circa 5 tonnellate scaduti o con provenienza ignota e pertanto non commercializzabili. Inoltre l'attività di vigilanza volta al contrasto del fenomeno della pesca di frodo del riccio di mare ha portato i militari ad individuare 8 pescatori subacquei abusivi provenienti dalla Sicilia o dalla Puglia fermati e sanzionati sul litorale nel comune di Santa Marinella e Tarquinia. Oltre all'attrezzatura utilizzata sono stati sequestrati più di 15 mila esemplari di riccio di mare che ancora vivi e vitali sono stati rigettati in mare aperto dalla Guardia Costiera e restituiti quindi al proprio delicato ecosistema. L'attività di contrasto a tale deprecabile fenomeno ha portato all'elevazione di 16 sanzioni amministrative nei confronti dei pescatori subacquei per un totale di 39 mila euro. E chi cercando di mettersi alle spalle le brutte notizie sulla fronte Covid, chi comparecca con parecchia preoccupazione vista l'attuale situazione, ma i civita vecchiesi non vogliono rinunciare a festeggiare il Natale. Siamo andati in giro per il centro cittadino per ascoltare le opinioni dei cittadini in merito alla festa più attesa dell'anno. Le interviste. Signora, come vede questo Natale? Molto triste. Molto triste, come mai? Perché sono tutti preoccupati perché ci richiudono, però ho visto che i casi di Covid hanno aumentato. Io sono vaccinata, pure il mio marito, però siamo preoccupati che riusciamo a prenderlo e questo cavolo di mascherina mi appanna sempre gli occhiali, non ci vedo più, ne posso più. Adesso c'è nuovamente l'obbligo di mascherina a partire da giovedì, quindi... No, ma io sono contenta, perché pure se sono vaccinata non vorrei che metta a rischio qualcun altro, ora che io so a rischio da qualcun altro. Ah beh, Natale è sempre Natale e si deve rispettare, però lo vedo dal punto... Io non sono un commerciante, però per dire, secondo me, secondo me lo vedo un po' triste, un po' sotto tono, non per me, ma per i commercianti, per i ristoranti, per i bar. Spero che si riprendano, spero. però il governo ha detto che forse dal lunedì ci porta in giallo perché il Lazio c'è un aumento dei contagi, è triste, è triste per alcune categorie, secondo me, per altri no, però per dire, speriamo che sia un Natale felice. Il problema del Green Bus c'è, però ce lo teniamo. Come festeggiate questo Natale? Diversamente agli anni scorsi oppure sarà uguale? in famiglia, come tutti gli altri anni. Quindi Natale, diciamo sì, simile a quello degli anni scorsi, possiamo dire? Sì, sì. Non cambia niente, anzi, stanno pure peggio. Sempre in famiglia, niente di eccezionale. E invece? Sempre in famiglia, anch'io. Adesso torna l'obbligo dei mascherini all'aperto, siete favorevoli o contrari? Io favorevole, anche se dà un po' fastidio, però speriamo che ci aiuti a uscire da questa situazione. Non è semplice, però serve per poter cercare di tornare alla vita normale. Certo, speriamo. Sì, sì. Prima possibile. Speriamo sempre che il Natale porti qualcosa di buono. Lei invece come la vede? Un pochino più positiva oppure pessimista? No, come lei, purtroppo, perché la situazione non è bella. E allora ci diamo, ci tiriamo su, andiamo, cerchiamo di fare. Stavo dicendo, è bello tutto questa illuminazione che c'è. C'è tanta tristezza. C'è tanta tristezza. Ci tiriamo su così, facendo una passeggiata, però con molta tristezza, perché i casi stanno veramente aumentando e siamo molto, almeno io so, molto preoccupata. Quindi festeggerete in modo diverso? No, festeggeremo a casa, in famiglia, anche perché proprio per via del coronavirus abbiamo tanti casi, comunque cerchiamo di stare separati, abbiamo tanti casi di malati in casa perché ci siamo dimenticati i tumori, ci siamo dimenticati tante cose, dove invece abbiamo, ognuno di noi, c'è un qualcosa di questo genere, cerchiamo di tutelare anche queste persone stando più a casa possibile. E lei invece? È uguale, a casa, con marito, figlio, mamma, limitare molto gli inviti perché penso che dall'altro anno a stanno non è cambiato nullo. E poi questa è una malattia, come diciamo sempre con lei, che bisogna rispettare il prossimo. Anch'io, mio marito, insomma, ha avuto un tumore, perciò è una persona fragile e bisogna stare attenti. Tutti gli utenti della zona 1, quelli cioè del centro cittadino, nella sola giornata di venerdì, dovranno anticipare l'esposizione dei contenitori dell'indifferenziata entro le ore 10 del mattino, anziché alle ore 20. Con l'occasione si ricorda che la raccolta dell'indifferenziata non comporta il conferimento di carta, cartone plastica, metalli ed organico, che vanno conferiti negli appositi giorni di raccolta secondo il calendario attualmente in vigore. Per venerdì non sono invece previste variazioni di esposizione dei contenitori per gli utenti della zona 2, restano confermati tutti i servizi di raccolta differenziata porta a porta, ordinari presso i domicili, come da calendario vigente durante tutta la settimana della festività. La raccolta itinerante di plastica e metalli sarà invece sospesa solo nei giorni di sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1 gennaio 2022. Gli utenti che avranno l'esigenza di conferire plastica e metalli potranno continuare a farlo con il porta a porta, il consueto giorno della settimana, come da calendario di raccolta. La giunta che passerà ai posteri come la giunta dell'erevoca è continua nella sua opera di sprechi e confusione. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle parla dell'amministrazione comunale e in particolare della raccolta differenziata. Prendiamo, affermano i pentassellati, l'intenzione di affidare un nuovo incarico per reperire i fondi nel PNRR per cambiare il metodo di raccolta di rifiuti e passare alle isole interrate ai cosiddetti cassonetti intelligenti. Secondo il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle le isole interrate sono un'idea già sperimentata con insuccesso nella nostra città e sarebbe meglio che l'attuale giunta continuasse con la raccolta porta a porta e istituisse la tariffazione puntuale. A sorpresa, con appena tre giorni di anticipo è stata convocata dalla Regione Lazio la seconda riunione della conferenza dei servizi per decidere sull'autorizzazione dell'esercizio dell'impianto di produzione biometano da rifiuti organici. Il mega di gestore che la società ambientalazio vorrebbe realizzare in località Monna Felicita lo affermano Comitato Sole e Forum Ambientalista che ancora una volta ribadiscono la loro contrarietà al progetto e chiedono all'amministrazione comunale di attivarsi in ogni sede per confermare espressamente il parere negativo. Facciamo appello, concludono le associazioni ambientaliste alla mobilitazione di cittadini e del comprensorio all'intervento delle istituzioni locali comuni, città, metropolitana, regione le forze politiche e sociali e quanti hanno a cuore le sorti del territorio per impedire questo ulteriore danno all'ambiente e alla salute. Ed è recentissima la comunicazione del Ministero delle Transizioni Ecologiche che archivia il procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di una nuova unità ciclo combinato richiesto da Tirreno Power. Ciò rappresenta una vittoria per il Partito Democratico e per tutti coloro che si sono spesi per scongiulare un'ulteriore servitù del nostro territorio che ci avrebbe ulteriormente legato a doppio filo alla produzione di energia elettrica da fonti fossili. Lo affermano il gruppo consigliare e la direzione del PD. Rimane in campo il progetto per il turbogas di Enel riprendono i democratici che dobbiamo continuare ad avversare con tutte le nostre forze ad ogni livello istituzionale. Non si può non esprimere preoccupazione a proposito di un'accelerazione del processo di un'eventuale autorizzazione per la realizzazione di un mega di gestori di rifiuti e località a Monna Felicità. La nostra posizione di netta contrarietà affonda le radici nell'assoluta consapevolezza che il nostro territorio non è in grado di tollerare questa forma di insediamento. Ed anche quest'anno torna l'appuntamento la notte delle pastorelle su TRC. Domani a partire dalle 20.40 trasmetteremo in diretta sul canale 1-1-1 del Digitale Terrestre sulla pagina Facebook di TRC Giornale la serata di esibizione in collegamento dalla Cattedrale che riprenderà ad ospitare il pubblico dopo lo stop forzato dello scorso anno non solo. Al termine della diretta l'atmosfera natalizia proseguirà sul canale 1-1-1 con i canti di Natale ripresi in giro per la città con le ormai classiche interviste ai protagonisti e alle istituzioni anche riproponendo alcune esibizioni del passato. Ma tornando alla pastorelle in programma domani sera in Cattedrale ascoltiamo le interviste degli organizzatori. Angelo Lucignani Marco Manovelli parliamo ovviamente della grande tradizione civita vecchiese quella delle pastorelle e quindi la serata del 23. allora io intanto ad Angelo chiedo come si svolgerà la serata di giovedì cosa dobbiamo aspettarci? Dal punto di vista dello spettacolo se così possiamo dire saranno tutti i gruppi anzi invitiamo tutti i gruppi che vogliono partecipare portandola il loro il loro repertorio di canzoni tradizionali a partecipare a questa serata basta soltanto che la sera stessa visto che comincerà tra le 20 e 30 magari qualche minuto prima vengono e ci dicono io sono il gruppo X e mi piacerebbe partecipare vogliamo che partecipi partecipi in serenità altrimenti proprio viene meno lo spirito dello spettacolo quindi Marco com'è organizzata questa serata? Ci saranno delle restrizioni o altro? Ci saranno i vigili urbani in primis la protezione civile e poi spero e questo lo auguro ma lo so il buonsenso perché il buonsenso vuol dire essere muniti di Green Pass sapere che questa è una manifestazione come in un teatro a cui possono aderire solamente persone che rispettano le norme eviteremo ovviamente assembramenti ma lasciatemi dire sono molto felice sono molto felice perché l'anno scorso andammo in diretta streaming voglio ringraziare veramente in maniera sentita ma di cuore non un ringraziamento così tanto per farlo il nostro Vescovo Ruzza perché già dall'anno scorso dimostrò una grande sensibilità una grande capacità di capire quelle che sono le tradizioni civile che era appena arrivato permettendoci Angelo di fare questa diretta streaming quest'anno appena io l'ho chiamato mi ha detto vai tranquillo Marco mettiti d'accordo con Don Cono che ringrazio ugualmente sentilo e così è stato e così il sindaco e così la fondazione perché sono vicini la serata sarà dedicata insomma a un personaggio importantissimo per la storia di Civitavecchia possiamo dire così assolutamente un personaggio importantissimo un amico personale noi conoscevamo Flavio da tantissimo tempo tra l'altro aveva la figlia che partecipava con la pastorella di Laura Gurrado e Flavio si è prestato nei tempi passati anche insomma a dare una mano nell'organizzare Flavio Mazzocchi che è venuto a mancare poco tempo fa dopo una lunga malattia che lui ha portato avanti con grande dignità e ha insegnato veramente tante cose non soltanto essere un bravo musicista un bravo professionista perché era una persona umilissima una persona che ieri stava sulla Rai a suonare con Massimo Regneri e il giorno dopo stava parlando con tutti senza bisogno di dover magari come magari qualcuno fa impropriamente attirarsela un po' per cui crediamo che questa volta visto che si parla di musica visto che si parla di rinascita di rispetto e di tradizione Flavio Mazzocchi è stato un grande musicista un grande amante di tutto questo e noi volevamo dedicare questa edizione proprio a Flavio si intitola Pensando al Natale l'evento organizzato dalla comunità di Sant'Egidio per domani alle 19.15 alla chiesa di San Giovanni in Piazza Saffi si tratta di una serie di letture a cura dell'associazione culturale Il Serapeo con musiche curate da Cristian De Julis e Michele Capitani l'evento si svolgerà nel piano rispetto delle normative anti-covid il 2021 termina con la presentazione di un nuovo libro per Marina Marucci la schiettice Civita Vecchiese annuncia all'uscita della sua nuova opera che si intitola Un amore irrisolto ascoltiamo l'intervista due personaggi un insegnante in scuola media un ispettore di polizia Sofia Vitti e Roberto Masina e sono qui come interpreti di alcuni aspetti della nostra vita che restano spesso irrisolti di che cosa tratta nello specifico questo romanzo e che è un sequel in parte sì allora è un romanzo d'amore d'amore a tutto tondo ma amore in generale in tutti i suoi aspetti e è un sequel di Segreti Incertosa anche se non è necessariamente un sequel stesso cioè si può leggere tranquillamente da solo quello che io volevo sottolineare è che un amore irrisolto è un amore fra due i due protagonisti del libro ma è anche un amore nei confronti della Certosa di Trisulti un luogo sacro di spiritualità inoltre ieri nella presentazione del libro che ho fatto all'Hotel San Giorgio molti mi hanno chiesto appunto perché questa copertina che senso ha questa copertina questo è un quadro riveduto cioè rielaborato graficamente di Edward Hopper che si chiama Inottamboli e ci sono due figure un uomo una donna che sono praticamente delle figure irrisolte non si sa che tipo di rapporto c'è fra loro due se sono due amanti se sono due amici due avventori addirittura si pensa che lei sia una prostituta che sta contattando il prezzo con l'uomo e questo è appunto il tema di un amore irrisolto cioè un amore che non ha una soluzione oggi e che rimane sospeso come appunto l'amore per la Certosa di Trisulti che poi avrà all'interno del libro tutta una serie di sviluppi quindi è un un libro che ha tre livelli di lettura la prima appunto che riguarda questa l'amore fra due persone un altro livello di lettura che riguarda il luogo sacro e quindi anche la ricerca da parte di Sofia Vitti della sua strada di una strada interiore spirituale e anche quello che si vede in copertina che mi ha molto ispirato proprio per il libro naturalmente è prospettiva editrice e però il libro dove è possibile trovarlo? Allora il libro si può trovare in tutte le piattaforme dove tipo Amazon Mondadori eccetera e tra un po' anche presso la rivendita Mondadori qui la libreria di Civitavecchia e voltiamo pagina parliamo di sport si chiude con il botto il 2021 del Civitavecchia e Nerazzurri ospitano domani Altamagnini alle ore 14.30 il Pomezia nella sfida per il primo posto che concluderà il girone d'andata di eccellenza tutti a disposizione di mister Castagnari con Ruggeri e compagni reduci da sei vittorie consecutive che si trovano a meno uno dal Pomezia capoliste in caso di successo finirebbero l'anno in testa sentiamo un'intervista al nuovo acquisto nerazzurro del portiere Edoardo D'Angelo con il nuovo acquisto del Civitavecchia Edoardo D'Angelo portiere allora intanto ti chiedo visto che sei arrivato da pochissimi giorni che gruppo hai trovato e qual è il tuo obiettivo in questa nuova avventura è un bel gruppo spogliatoio coeso già anche domenica contro il Ladispolis è visto comunque una grande squadra una squadra compatta una squadra che non ha concesso niente sicuramente mi aspettavo di arrivare in un gruppo così forte poiché siamo lì sopra almeno dal Pomezia che è prima in classifica attualmente poi vediamo V3 Maccarese Montecimini quindi diciamo non sono stato più di tanto sorpreso la qualità della rosa è clamorosa perché comunque è una squadra che deve luttare per rimanere lì fino a marzo o aprile nel caso in cui andiamo a fare i playoff ecco e tu ti aspetti di giocare però quello poi aspetta il mister ovviamente decidere poi si vedrà già anche con l'altro portiere mi trovo bene mi trovo bene con il gruppo spero sì di poter giocarmi le mie carte il prima possibile ecco se ti chiedo un obiettivo per il 2022 la vittoria è un campionato con il Civitavecchia ecco andare in serie D il Civitavecchia sfiderà nuovamente la Favle Cimini nella Coppa Italia di eccellenza questo è l'esito dei sorteggi che si sono svolti oggi pomeriggio in streaming per determinare gli accoppiamenti delle semifinali l'andata si giocherà a Vignanello il 13 gennaio il ritorno al Tamagnini il 27 dello stesso mese si ripropone quindi la sfida tra i nero-azzuri e gli ex-scorsini Tabarini e Vittorini che è già andata in scena due volte in questa stagione uno è in campionato con la vittoria esterna della Favle Cimini per 3 a 2 e poi curiosamente le due squadre si sono già affrontate in questa Coppa Italia nel secondo turno con il Civitavecchia che ha vinto ai rigori il regolamento ha però premiato entrambe le squadre che si sono qualificate al turno successivo e adesso si ritroveranno contro in semifinale e il 2021 si chiude con un ritorno in nero-azzurro per Andrea Russo e il ginnasta della SG Nassama Coach Gigi Rocchini ha preso parte all'incontro internazionale tra Italia e Turchia che si è svolto a Padova in seguito alla festa delle medaglie olimpiche mondiali dove c'è stata anche la premazione dell'iridato Marco Lodaddio la viare dell'aeronautica militare ha chiuso al decimo posto nella classifica generale con il punteggio di 62-700 che ha consentito al gruppo di cui ha fatto parte di poter centrare la terza posizione nella classifica a squadre e si chiude nel segno del successo il 2021 per il circolo Canottieri Civitavecchia impegnata alla salaria Sport Village per la Coppa di Natale tante le soddisfazioni per il tecnico Gianfranco Tranquilli rimasto soddisfatto delle prove dei suoi dagli allievi ai master che può essere anche un buon auspicio per il 2022 oro per Alessia Gabriela Azzuitei negli allievi B1 Ivano Scotti nel singolo master e per Francesco Mocchi Onori nel singolo Junior vincitore dell'argento del singolo allievi B1 bronzo per Ismaele Di Claudio nel singolo Cadetti Daniele Vitale nel singolo allievi e per Giordano Floris nel singolo ragazzi e con questo è tutto termina qui questa edizione del TRC Giornale ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook Youtube Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie dell'ascolto auguro a tutti un buon proseguimento di serata www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it